ok buongiorno eccoci a una nuova settimana con le lezioni di tecniche di programmazione oggi finalmente riusciamo a vedere un esercizio completo in sostanza una simulazione d'esame in cui il secondo punto è un punto ricorsivo un esame recentissimo dell'anno scorso quindi il mio consiglio è prima di guardare la video lezione provate a farlo da soli c'è il progetto base su github e poi eventualmente guardate la video lezione così iniziate già a rendervi conto se in circa due ore riuscite a portare a termine questo questo esercizio quanto meno il primo punto che è il punto base che dovete fare per passare l'esame allora andiamo a vedere di cosa si tratta si utilizza un dataset chiamato denver crime lo trovate nel progetto base che riporta una serie di oltre 300.000 eventi criminosi in determinati anni nella città di denver andiamo a vedere la struttura di questo db che è veramente semplicissima c'è un'unica tabella tabella che modella degli eventi criminosi in cui abbiamo un id per ogni evento ovviamente abbiamo la data dell'evento le coordinate del luogo dove dove è avvenuto l'evento l'id del distretto della città in cui è avvenuto l'evento e poi abbiamo anche una serie di informazioni che classificano diciamo così il tipo di di evento quindi il codice il id del tipo la categoria eccetera cosa chiede questo questo esercizio allora si intende costruire un'applicazione che permette di interrogare la base dati per ricavare informazioni utili alla distribuzione delle forze di polizia in particolare l'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni come prima cosa si deve permettere all'utente di selezionare una categoria di reato e un mese questi dati vanno estratti preventivamente dal database dal campo offense category id per quanto riguarda la categoria e dalla reported date per quanto riguarda i mesi alla pressione del bottone analisi quartieri occorre costruire un grafo semplice pesato e non orientato i cui vertici corrispondano ai tipi di reato quindi corrispondano ai campi ai valori che ci sono in questa colonna offense type id ovviamente tipi di reato che corrispondono ai criteri selezionati i criteri selezionati che sono ovviamente la categoria e il mese signorino quindi tutti gli eventi che non appartengono né alla categoria nel mese specificato gli archi che collegano ciascuna coppia di vertici hanno un peso pari al numero di quartieri distinti identificati da questa colonna della tabella in cui si siano verificati entrambi i tipi di reato qualora tale numero sia pari a zero l'arco non deve essere inserito questo per quanto riguarda la creazione del grafo per quanto riguarda il punto d del primo punto si visualizza l'elenco di tutti gli archi il cui peso sia superiore al peso medio presente nel grafo vedremo come farlo per ogni arco si visualizzano i due tipi di reato i due vertici e il peso stesso direi di partire col punto 1 il punto 2 lo vediamo in seguito quindi chiudo un attimo il pdf e partiamo ovviamente progetto base contiene come al solito già un po di cose ovviamente però il model è vuoto direi di partire dalla parte un po più noiosa che riempire le due catene le due tendine che permettono agli utente di selezionare gli input iniziali del per far girare il programma quindi vado nel dao e mi creo due metodi uno per recuperare i mesi distinti dalla colonna dalla colonna date del della tabella ovviamente vedremo che questi mesi vanno da 1 a 12 però noi non possiamo sapere a priori se ci sono eventi in tutti i mesi e quindi andiamo ad estrarre questa informazione dal dal db e poi mi predispongo già anche un altro metodo per ottenere le categorie disponibili allora partiamo dai mesi in questo caso è abbastanza facile quindi scriviamo direttamente la query qui in eclipse possiamo ottenere i mesi distinti select attraverso la funzione month di sql in particolare li vogliamo distinti quindi specifichiamo distinct month di reported date la colonna della tabella che riporta la data as mese from la tabella events c'è solo questa questa è la nostra query facilissima il solito il solito pattern di programmazione quindi il try catch mi creo preventivamente fuori dal try catch una lista di integer per contenere i miei mesi ok e all'interno del try catch mi faccio dare la connessione creo il prepare statement eseguo la connessione e ciclo sui risultati quindi while res.next perfetto andiamo ad inserire il mese considerato all'interno della nostra lista mesi.add new possiamo fare direttamente rs.get res.get int mese perfetto mi ricordo di chiudere la connessione magari prima di ritornare questi mesi possiamo anche ordinarli in modo tale da visualizzarli quindi dall'uno al dodici se ci sono tutti collection punto collections punto sort ops mesi e infine ritorno la mia lista perfetto facciamo rapidamente anche la stessa cosa per le categorie molto simile copio tutto il codice ovviamente la mia lista non è più di interi ma è di stringhe si chiamerà categorie e anche la mia qui ricambia seleziono le categorie distinte quindi select distinct offense category id il campo che era riportato anche nel pdf as categoria from events a questo punto cambio ciò che devo cambiare quindi categorie rs punto in questo caso è una stringa che si chiama categoria non ho più da ordinare niente ma ritorno semplicemente la mia lista benissimo questi sono i metodi del dao allora adesso richiamiamoli dal modello che verranno metodi che verranno poi a loro volta richiamati dal controllore quindi public list integer get mesi e public list string get categorie ovviamente prima di riempire questi metodi definiamo anche il costruttore del modello perché al suo interno potremmo istanziare un nuovo dao quindi come attributo della classe model definiamo un riferimento all'events dao e all'interno del costruttore lo andiamo a creare importiamolo eccoci qua dovremmo importare anche list ok a questo punto facilissimo uso il dao per recuperarmi i mesi e recuperarmi le categorie perfetto a questo punto posso ancora risalire di un livello vado nel controllore e direi dopo aver settato il modello vado a riempirmi le mie due tendine allora la tendina della categoria conterrà delle stringhe la categoria della combo box del mese conterrà degli interi quindi posso dire this punto box categoria punto get items punto add all this punto model punto get mesi no categorie stessa cosa per il box mese this punto model punto get mesi ovviamente potrebbero venirvi in mente soluzioni più complicate non lo so visualizzare il mese come stringa quindi gennaio febbraio marzo aprile eccetera il mio consiglio è tutte le volte che potete sviluppare una soluzione semplice scegliete la strada semplice anche perché rischiate di perdere mezz'ora solo per visualizzare il mese in parole e poi non riuscite a portare a termine l'esame quindi in questo caso semplicemente uso un intero e va bene così ottimo vediamo se funziona provo a lanciare il mio main mi sono dimenticato come sempre di cambiare la password nella db connect devo introdurre la mia password segretissima root root via vediamo ok direi che ci sono le varie categorie di reato e anche i mesi in ordine da 1 a 12 molto bene stoppiamo tutto e iniziamo a creare il nostro grafo andiamo a vedere nel nostro pdf ci viene chiesto di creare un grafo semplice pesato non orientato allora definiamo il nostro riferimento al grafo come attributo della classe model come sempre importiamo graph perfetto e poi all'interno di un metodo che chiamiamo public void crea grafo andiamo a fare la new del nostro grafo this punto grafo uguale new simple weighted graph the default weighted edge punto class ok attenzione chiediamoci subito questo metodo crea grafo dovrà ricevere qualche parametro beh direi proprio di sì perché scusate perché l'utente va a selezionare due input prima di cliccare sul bottone relativo alla creazione quindi questi parametri li passiamo qui a questo metodo quindi la categoria e il mese oh perfetto a questo punto direi di come al solito seguire sempre l'approccio più efficiente che è quello di farci dare già le adiacenze per noi dal DAO ok così siamo sicuri che l'esercizio la creazione del grafo avviene in un tempo ragionevole quindi a questo punto mi servirà di sicuro una classe per modellare queste adiacenze nel grafo quindi mi vado a creare una classe che possiamo chiamare adiacenza all'interno del mio package model questa classe appunto dovrà tenermi traccia di tutte le adiacenze che io andrò ad inserire nel mio grafo quindi avremo il riferimento ai due vertici quindi private vertici sono delle stringhe chiamiamolo v1 private string v2 e ovviamente anche un riferimento al peso che dovrò andare a inserire nel grafo private facciamo un double peso come al solito mi faccio generare il costruttore eccolo qua e anche i getter e setter visto che non inseriremo queste adiacenze in mappe strane direi che possiamo anche evitare di ridefinire hashcode equals per il momento e quindi vado di nuovo nel modello e immagino un metodo del DAO che mi restituisca queste adiacenze list adiacenze adiacenze ovviamente la classe adiacenza perfetto uguale dis.DAO.get adiacenze ovviamente a questo metodo passerò di nuovo la categoria e il mese poi lo andremo a fare ed è la parte difficile diciamo così del primo punto dell'esame ma supponendo di avercelo già io posso poi scorrere queste adiacenze adiacenza A in adiacenze e andare a inserirmi le mie informazioni nel grafo quindi posso innanzitutto inserire i vertici della adiacenza che sto considerando se questi non sono già presenti nel grafo quindi if not this.grafo.contains vertex A.v1 vado a inserirlo nel mio grafo this.grafo.add vertex A.get d1 stessa cosa per v2 if not this.grafo.contains vertex A.get d2 this.grafo.add vertex A.get d2 ok dopodiché siamo sempre in un grafo non orientato quindi bisogna fare attenzione a non controllare le coppie due volte cioè se l'arco tra un vertice e un altro c'è già è inutile andarlo a ricreare quindi in sostanza creo l'arco tra v1 e v2 solo se questo arco non c'è ancora quindi if this.grafo.get edge tra il nodo sorgente che in questo caso è v1 e il nodo destinazione è uguale uguale a null vuol dire che questo arco non c'è ancora e quindi vale la pena inserirlo togliamo un po' queste graffe che non servono graphs.add edge con vertici dove nel mio grafo qual è il nodo sorgente A.get d1 qual è il nodo destinazione A.get d2 qual è il peso A.get peso perfetto adesso la creazione del grafo direi che è terminata possiamo stampare per sicurezza qualcosa sulla console grafo creato diciamo così string punto format grafo creato con per cento di vertici e per cento di archi e tra i parametri andiamo a dirgli this letemi chiudere aprire bene questa classe ok this punto grafo punto vertex set punto size ed is punto grafo punto vertex set punto edge set scusate punto size ok adesso ovviamente il metodo get adiacenze non ce l'abbiamo ancora ed è il metodo più importante di questa parte dell'esercizio andiamolo a creare dentro al DAO eccolo qua ma prima di andarlo a specificare bene due cose la prima è come vedete non ho utilizzato un identity map questo perché i vertici del grafo sono delle stringhe le stringhe hanno già un loro hash code e equals e quindi non c'è il rischio di andare a creare degli oggetti più volte oggetti che però non vengano controllati bene e quindi il rischio di creare due oggetti che per noi sono uguali ma in realtà poi risultino diversi questo non succede perché le stringhe hanno già un loro hash code e equals implementati bene per noi e quindi questo problema è risolto ovviamente l'identity map eviterebbe di creare più volte le stesse stringhe però e quindi magari aiuterebbe un po' le performance del programma ma direi che in questo caso non è un grosso problema e quindi ripeto non ho usato un identity map perché i vertici del grafo sono dei tipi di dato diciamo così primitivi modellati da java direttamente seconda cosa prima di creare il metodo nel dao andiamo a trovare la query giusta nel client sql allora noi vogliamo recuperare delle coppie di che cosa andiamo a vederlo nel pdf vogliamo recuperare delle coppie di vertici in questo caso i vertici sono degli offense type id con il relativo peso peso che è pari al numero di quartieri distinti dato da questo campo neighborhood id in cui si siano verificati entrambi i tipi di reato quindi avremo reato a reato b e questi due reati saranno collegati con un arco che ha peso pari al numero di quartieri in cui si siano verificati sia il reato b che il reato a ovviamente il tutto in un determinato mese in più questi reati faranno parte solo della categoria che l'utente ha specificato all'inizio spero di essermi spiegato andiamo sul client vi voglio solo far notare che la categoria e l'id sono sembrano simili ma in realtà il campo che specificherà i nostri vertici type id è più specifico della categoria in certi casi coincidono ma ad esempio in questo in questo no ok quindi ripeto questa questa la categoria è un filtro sui possibili vertici invece i vertici sono modellati dal type id andiamo nella query quindi sicuramente vorrei vorrei vogliamo ottenere select due vertici quindi due offense type id da dove ovviamente dalla tabella events visto che vogliamo ottenere le coppie di vertici sicuramente dovremmo fare una join della stessa tabella con se stessa quindi from events e1 virgola events e2 e quindi nella select posso specificare e1 punto offense type id virgola e2 punto offense type id oh perfetto oltre ai due vertici ovviamente vogliamo un peso peso che è un conteggio come chiedeva il testo quindi ci sarà sicuramente un count chiedeva il conteggio dei mi sono perso un attimo scusate dei quartieri distinti quindi sicuramente distinct quartieri che sono modellati dal campo fatemi aprire bene qui nei andiamo a prendercelo perché ecco qua enabled id togliamo pure gli apici che non servono a nulla quindi count distinct dei quartieri as peso ovviamente count dei quartieri in cui si siano verificati sia e1 punto offense type id che e2 punto offense type id e questo lo andiamo a specificare ovviamente nella clausola di where nella clausola di where dove innanzitutto impostiamo i parametri che l'utente può inserire quindi ovviamente sia la categoria di e1 che la categoria di e2 deve essere uguale alla categoria selezionata dall'utente quindi e1 punto offense category id uguale a qui ci sarà il punto interrogativo noi andiamo a prendercene una da qui proviamo questa ovviamente anche e2 punto offense category id dovrà essere la stessa poi abbiamo ancora il filtro sul mese quindi entrambi e1 e2 dovranno essere filtrati sul mese specificato dall'utente come faccio? beh sempre con la funzione monse di e1 punto reported date uguale anche qui ci sarà il punto interrogativo in questo caso mettiamo un valore 2 and stessa cosa per e2 e sempre 2 questi sono i filtri che l'utente può inserire ovviamente cosa possiamo ancora filtrare modellare possiamo dire che i due reati siano diversi quindi che e1 punto offense type id ho dimenticato l'end sia diverso dal punto offense type id di e2 e ovviamente qui abbiamo due tipi di reato distinti che saranno una coppia di vertici nel nostro grafo noi vogliamo contare in quanti quartieri distinti questi due tipi di reato si siano verificati e quindi devo imporre che il quartiere sia uguale quindi e1 punto enable id lo vado a copiare di qui uguale ad e2 punto ovviamente abbiamo un conteggio e quindi ci sarà la nostra solita group by di tutto quello che c'è prima del count quindi per ogni coppia di reati distinti all'interno di una data categoria e di un dato mese io vado a contare quanti distretti quartieri scusate contengono in quanti quartieri si sono verificati entrambi dei due entrambi i due reati proviamo a lanciare la query c'è qualche problema di sintassi le end mi pare ci siano tutte ah sì ora mi dà un errore diverso ah certo perché abbiamo due tabelle e quindi possiamo specificare e1 punto enabled id quindi è indifferente mettere 1 e 2 intanto li abbiamo posti come uguali riproviamo un altro errore headline 1 ah forse perché c'è uno spazio di troppo non credo andiamo un po' offence category id forse non si chiama così ah no è proprio sbagliato category riproviamo anche questa funzione l'ho scritta sbagliata eccola qua forse adesso ci siamo vedete ho una lista di coppie di reati con il relativo peso tutto quello che mi serve per creare il grafo non è facilissimo questa query bisogna ragionarsi un po' ma la struttura è molto simile a altri esercizi in cui facciamo la join della tabella con se stessa per recuperare le varie coppie dei vertici con il relativo peso ottimo la copio e vado di nuovo in eclipse vado in eclipse e in particolare nel dao e piazzo la mia query in una stringa solito lavoro noiosissimo di togliere le scende ovviamente qui non ci sarà specificato il parametro ma un punto interrogativo spazio stessa cosa qui stessa cosa qui e qui togliamo ancora questi slashen e dovremmo esserci questa è la nostra query ok o meno adesso il solito pattern che vado a copiare per poi modificarlo ovviamente a questo punto la mia lista che mi serve per estrarre i risultati non è più di stringhe ma di adiacenza adiacenze qui dobbiamo fare un lavoro di settaggio dei parametri st punto i primi parametri da settare sono le due categorie quindi set string alla posizione 1 la mia categoria stessa cosa per la posizione 2 gli altri due parametri da settare sono invece i mesi quindi set int 1 no scusate 3 mese stessa cosa per il parametro 4 molto bene eseguo la query e finché c'è un risultato lo vado ad aggiungere nelle mie adiacenze quindi non sarà una get string semplicemente ma sarà una new adiacenza di cosa di rs punto get string beh possiamo rinominarlo es v1 nella query così è più facile poi fare la get string es v2 il peso si chiama peso v1 virgola rs punto get string di v2 virgola rs punto get int now get double peso non si chiama rs ma res modifico e la classe ah no ovviamente adiacenza chiudo la connessione ritorno le mie adiacenze oh molto lineare come pattern quindi questo è il metodo del DAO ovviamente ci vorrà il corrispondente metodo del model no scherzavo perché ce le prendiamo direttamente da qui vediamo solo perché c'è questo warning ah sì vabbè possiamo specificare meglio che cos'è il nostro grafo anche qui quindi è un simple weighted graph in cui i vertici sono delle stringhe e i pesi sono dei double no scusate e gli archi sono dei default weighted edge ok direi che ci siamo abbastanza proviamo a collegare questo metodo al controller quindi in ducrea grafo la prima cosa da fare è andarsi a prendere i vari input quindi la categoria uguale tx no box categoria punto get value ovviamente se categoria è uguale uguale a null error raccio non possiamo andare oltre quindi stampiamo il messaggio a video seleziona categoria e facciamo una return magari all'inizio del metodo mettiamo anche una txt result punto clear facciamo la stessa cosa con il mese che è un intero quindi box mese punto get value anche qui copio qui e modifico se il mese è uguale a null errore se ne seona mese detto questo possiamo invocare il metodo dis punto model punto crea grafo categoria e mese proviamo un po' selezioniamo una categoria di reato e un mese e proviamo a cliccare sul bottone per la creazione del grafo direi di sì funziona grafo creato con tre vertici e tre archi proviamo a cambiare parametri vediamo se cambiano i valori 24 vertici e 184 archi sembra funzionare molto bene vediamo cosa chiedeva il punto d di questo primo punto oltre a creare il grafo si visualizzi l'elenco di tutti gli archi del grafo il cui peso sia superiore al peso medio presente nel grafo per ogni arco si visualizzino i due tipi di reato ed il peso stesso ok allora visto che dobbiamo stampare degli archi direi che possiamo crearci una classe apposita per salvarci queste informazioni verrà molto più comodo poi per stamparle quindi mi crea una classe arco che contiene i riferimenti ai due vertici e al peso dell'arco è molto simile ad adiacenza anzi direi che è praticamente uguale quindi forse in realtà potremmo usare direttamente la classe adiacenza però per pulizia diciamo così sono due concetti che modellano due cose diverse uno lo usiamo per estrarci le adiacenze dal db questo invece lo usiamo per stampare gli archi quindi potrebbe avere senso anche creare due classi non importa scegliete la strada che volete a questo punto posso andare nel mio modello ok e possiamo prevedere un metodo che ci ritorni una lista di archi ok archi di peso maggiore del peso medio del grafo chiamiamolo get archi allora che cosa dovrà fare questo metodo beh prima cosa dovrà ovviamente calcolare il peso medio del grafo peso medio del grafo che è dato dalla media di tutti i pesi degli archi contenuti in questo grafo quindi definiamo una variabile double peso medio e scorriamo tutti gli archi contenuti nel grafo quindi default weighted edge e in this punto grafo punto edge set al peso medio aggiungiamo il peso dell'arco che stiamo considerando quindi this punto get del grafo punto get edge weight di e l'arco che sto considerando ovviamente questo peso medio parte da zero e dopo il for va diviso per il numero di archi presenti nel grafo per calcolare la media appunto quindi this punto grafo punto edge set punto size questo è il peso medio adesso mi definisco una lista per contenere i miei archi che saranno maggiori che avranno peso maggiore di questo peso medio quindi array list di arco archi uguale new array list qui può essere semplicemente list usiamo l'interfaccia e importiamo array list e come faccio? beh dovrò purtroppo riscorrere di nuovo tutti gli archi e se per caso il peso dell'arco che sto considerando è maggiore del peso medio che ho calcolato prima allora andrò a aggiungere nella mia lista il riferimento a questo nuovo a questo arco quindi mi chiedo if this punto grafo punto get edge weight di e è maggiore del mio peso medio allora faccio una add nella mia lista di archi archi punto add di new arco andiamo a riempire diciamo così questo arco con sorgente destinazione dell'arco this punto grafo punto get edge source di e virgola this punto grafo punto get edge target di e e ovviamente anche con il peso quindi this punto grafo punto get edge weight di e e ovviamente ritorniamo la nostra lista di archi volendo possiamo anche ordinare questa lista ecco magari una differenza tra la classe arco e la classe adiacenza quindi vado sulla classe arco ovviamente possiamo ordinarla ad esempio per avrebbe senso per peso quindi diciamo che questa classe arco implements comparable e andiamo a implementarci il metodo compare to potremmo 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 dire return o punto weight get weight get peso punto compare to this punto peso vedete che sto comparando per peso e visto che peso è un double io vado a riutilizzare il compare to della classe double che sicuramente sarà definito bene perché è un tipo di dato modellato da classi java standard e quindi prima nel dow prima di ritornare questa lista non nel dow ma nel modello la posso anche ordinare adesso collections punto sort ho perso tutto di archi ovviamente questa collections punto sort di archi funziona solo se io ho implementato il compare to dall'altra parte benissimo adesso torno nel controller e una volta creato il grafo mi vado a prendere la lista di archi desiderata this punto model punto get archi e la vado ovviamente a stampare importiamo un po' di cose posso stampare txt result punto append text archi maggiori peso medio due punti slash n slash n e poi faccio il mio for sulla mia lista di archi txt result punto append text a punto to string più slash n se vogliamo stampare l'arco col to string è bene anche andarci a ridefinire il metodo to string nella classe arco in modo tale da stampare l'arco come meglio crediamo quindi source generate to string direi di stampare sia sorgente destinazione che peso va bene lasciamola così per il momento questa stampa ok riproviamo un attimo l'esercizio dovremmo essere giunti al fondo del primo punto dell'esame quindi direi che abbiamo preso un bel 21 proviamo con due input ok questi sono tutti gli archi del grafo maggiori del peso medio vedete che il peso gli archi sono ordinati per peso grazie alla nostra collections punto sort ok ma noi non ci accontentiamo di un 21 vogliamo arrivare al 30 lode e quindi andiamo a vedere cosa chiede il punto 2 punto 2 che è ricorsivo quindi lo sappiamo già fare a partire dal grafo calcolato nel punto precedente si permette all'utente di selezionare dalla tendina uno degli archi sopramostrati gli archi che abbiamo appena calcolato quelli maggiori del peso medio identificando così ovviamente i due vertici adiacenti riferiti a tale arco alla pressione del bottone calcola percorso si calcoli e visualizzi un cammino aciclico semplice che inizi e termini nei due vertici selezionati e che tocchi il numero massimo di vertici ok quindi è ovvio che tra i due vertici dell'arco la strada più semplice è utilizzare l'arco stesso ma noi vogliamo avere un altro percorso che colleghi questi due vertici che nel grafo tocchi il numero maggiore di altri vertici ok un punto classico ricorsivo allora andiamo un attimo qui e iniziamo a ragionare su come risolvere questo punto ovviamente il lavoro sarà inserito tipicamente nel modello e possiamo immaginarci un metodo che ci ritorni una lista di vertici ok una lista di vertici che modelli questo percorso vertici sono delle stringhe trova percorso che parametri riceverà questo metodo beh sicuramente vertice di partenza e vertice di arrivo quindi string sorgente virgola string destinazione adesso che cosa ci serve per impostare la nostra struttura ricorsiva beh da qualche parte ci servirà sicuramente la nostra struttura dati per tenere traccia della soluzione migliore perché qui è un problema di ottimizzazione vogliamo trovare il cammino che contenga il numero massimo di vertici e quindi io vado a definirmi come attributo della classe model una lista private list di string chiamiamola best ok dopodiché all'interno della procedura ricorsiva ci servirà anche una lista per tenere traccia della soluzione parziale quindi list string parziale uguale new array list inizialmente vuota ovviamente possiamo anche anzi dobbiamo fare una new della best path per evitare della variabile best per evitare di incorrere in null pointer exceptions quindi new array list eccoci qua ovviamente a parziale possiamo aggiungere già il nodo di partenza quindi parziale punto add sorgente altre cose da fare prima di far partire la ricorsione direi nulla per adesso immaginiamo di avere una funzione chiamiamola trova ricorsivo che accetti come parametri che cosa allora ragioniamo sicuramente dovrà conoscere il nodo di destinazione banalmente per interrompere l'esplorazione dei percorsi quindi passo il nodo di destinazione poi dovrà sicuramente avere un riferimento alla nostra lista parziale forse può esserci utile un livello non so magari non lo useremo ma impostiamo il livello della ricorsione inizialmente a zero quando tutta questa trova questa funzione trova ricorsivo sarà giunto al termine della sua procedura semplicemente ritorniamo il percorso best che abbiamo trovato allora facciamoci definire questa questo metodo che sarà il metodo ricorsivo mentre trova percorso era solamente il metodo che impostava la ricorsione e iniziamo a chiederci qual è il caso terminale beh sicuramente il caso terminale è quando l'ultimo diciamo così vertice inserito in parziale parziale è uguale alla destinazione ok quindi quando l'ultimo nodo che ho inserito in parziale coincide con la mia destinazione sono arrivato e quindi non devo più proseguire oltre eventualmente controllerò se il percorso che ho trovato è migliore del best che attualmente io ho e in quel caso sovrascrivo il mio il mio best path comunque impostiamo prima il caso terminale quindi if parziale punto get di parziale punto size meno uno l'ultimo elemento inserito in parziale è equals quindi uguale al mio nodo di destinazione sono arrivato alla fine return posso non proseguire oltre ma cosa posso fare oltre a terminare la ricorsione ovviamente devo controllare diciamo così la bontà del percorso che ho trovato noi vogliamo ottenere i percorsi che contengano un percorso il percorso che contenga il numero di vertici visitati massimo ok quindi se parziale punto size il punto size mi identifica quanti vertici ho visitato in questo percorso è maggiore di best punto size il miglior percorso che conosco fino ad ora allora sovrascrivo il best lo sovrascrivo con parziale return perché non devo più andare oltre se non sono nel caso terminale cosa posso fare scorro i vicini dell'ultimo vertice inserito in parziale ok e poi per ogni vicino provo a metterlo nel percorso lancio la procedura ricorsiva e faccio backtracking il solito schemino quindi for string vicino in graphs punto neighbor list of quindi vado a prendermi vicini dove sul grafo vicini di chi dell'ultimo vertice inserito in parziale quindi di nuovo parziale punto get parziale punto size meno uno attenzione qui visto che stiamo cercando dei cammini aciclici dobbiamo anche avere l'accortezza di non visitare lo stesso nodo più volte quindi cammino aciclico controllo che il vertice non sia già in parziale se non lo è lo posso aggiungere rilanciare la procedura ricorsiva e fare backtracking quindi if not parziale punto contains vicino vicino provo ad aggiungere quindi parziale punto add vicino continuo la ricorsione quindi dis punto trova ricorsivo di che cosa ovviamente dobbiamo sempre passare la destinazione parziale e se qui l'aveva chiamato i chiamiamolo l l più 1 livello che non andiamo ad utilizzare ma va bene ce lo portiamo dietro pazienza ho sbagliato a scrivere direi di sì copiamolo trova ricorsivo e poi faccio back tracking quindi parziale punto remove parziale punto size meno 1 qual è il problema qui ho di nuovo sbagliato il nome sì è tutto lì quindi vedete che il punto 2 si risolve se abbiamo bene in mente come farlo in poche righe di codice ok se sappiamo come farlo se capiamo come farlo in una decina di minuti un quarto d'ora riusciamo a completare il punto 2 ovviamente colleghiamolo ancora al controller per far questo bisogna fare qualche lavorino in più innanzitutto bisogna andare ad inserire nella nel box nel combo box box arco gli archi che recupero da qui in modo tale che l'utente ne possa selezionare uno questo lo posso fare tutte le volte che chiamo questo metodo quindi questa combo box conterrà degli archi e quando li ottengo vado a modificare il contenuto di box arco get items add all archi a questo punto nel bottone relativo al calcolo del percorso facciamo una clear vado a recuperarmi l'arco selezionato dall'utente miss punto box arco punto get value ovviamente il solito controllo di errore se a uguale a null messaggio di errore e return altrimenti chiedo al modello di darmi il percorso migliore quindi list di string percorso uguale this punto model punto trova percorso sorgente destinazione che vado a recuperare dall'arco che ho selezionato a punto get v1 a punto get v2 e dopodiché posso stampare il mio percorso txt result punto append text percorso migliore due punti slash n slash n e faccio un for sulla lista string v in percorso txt result punto append text v più slash n ecco qui facciamo una prova vediamo se tutto funziona oppure no di nuovo creiamo il grafo con due parametri di input e andiamo a selezionarci un arco dal menu a tendina e vediamo se viene calcolato il percorso ovviamente essendo i i grafi che noi andiamo a creare potenzialmente anche grandi questa trova percorso può metterci un po' stoppiamo un attimo proviamo magari con degli altri parametri sempre se parte no perché ne ho un po' di aperti fatemi di chiudere ok riproviamo dove si mito ah eccolo qua si è svegliato proviamo con questo ok ci sono già un po' meno archi proviamo a selezionare il primo ah vedete che qui è istantaneo parte dal sorgente by force arriva la destinazione no force toccando il numero massimo di altri vertici ok chiudiamo qui questo questo esercizio siamo riusciti a portare a termine un intero esame con un punto 2 ricorsivo l'altra tipologia dei punti 2 che possono capitare è relativo alle simulazioni che vedrete nelle prossime lezioni ok grazie e buona serata